L'avviso per i naviganti di sinistra è questo. Non accetteremo di essere figli di un Dio minore, semplicemente perché un Dio minore non esiste. Esiste Dio e sì, siamo Suoi figli, orgogliosi, e anche per questo non accettiamo di sentirci inferiori a chi un Dio pensa di non averlo. Fatevene una ragione. Non ci troverete mai con lo sguardo basso, con il capo Chino, a chiedervi il permesso di essere quello che siamo, perché noi abbiamo scelto di essere quello che siamo. Abbiamo scelto di essere diversi da voi, alternativi a voi. Staceci dietro se siete capaci. rispondete nel merito se siete capaci. Scendete sul piano dei contenuti se siete capaci. Non continuate a scappare. Dimostrate l'orgoglio che noi dimostriamo, perché sarà quell'orgoglio a portarci alla guida di questa nazione, insieme alle milioni di persone che volevate vinte e per vinte non si sono date. e che hanno aspettato e combattuto perché le loro idee potessero arrivare alla guida di questa nazione. Sarà esattamente con questo orgoglio che noi vi guarderemo dritti negli occhi, sorrideremo, vi sfideremo e vi batteremo. Ci faremo trovare pronti, signori. Auguratevi di esserlo anche voi. Viva l'Italia! Viva Fratelli d'Italia!